E' davvero difficile individuare il migliore in campo di Catania Foggia. Si potrebbe dire Fumagalli, autore di parate importanti, soprattutto nel primo tempo. Si potrebbe dire Curcio, protagonista di almeno due dei tre gol realizzati dai Satarelli e di una prestazione maschia da ex che ha ancora il dente avvelenato contro la società rossa-azzurra. Ma potremmo anche indicare l'attaccante Balde, uomo doppietta, devastante sul puntare l'avversario, ma soprattutto rapido, talmente rapido, che ha omigliato la difesa siciliana in almeno due circostanze. Attenzione Bari, perché se nella regular season il calciatore che ha dato più filo da torcere è stato Curcio, la sensazione è che Marchion impiegherà Balde anche in occasione del derby. Dell'Agnello sta ancora facendo i conti con il Covid, Andrea è partito dalla panchina e così il senegalese si è giocato al meglio le sue chance. Inutile nascondersi dietro ad un dito, il Foggia sa quali sono i punti deboli del Bari. Uno di questi è la difesa un po' lenta. Mettere rapidissimo Balde in attacco vorrebbe dire mettere in forte crisi i calciatori come Sabbione, che non sono proprio dei fulmini di guerra. Insomma i rossoneri sanno che quella contro il Bari è anche una partita a scacchi, in cui minori sono le pedine da schierare e sicuramente ci sono meno regine nella scacchiera. Ma la partita è aperta perché lo scacco matto alla fine potrebbe arrivare anche solo con una mossa e a Catania, ma non solo, Marchion ha dimostrato di saperlo fare, che questo derby abbia inizio.